Uno degli effetti della pandemia forse più devastanti è stato quello a livello economico. Molti soffrono e i commercianti sono probabilmente la categoria più in sofferenza. Ecco, dai dipendenti di Confesercenti nasce una bella iniziativa. Sì, noi abbiamo deciso che per questo Natale andremo ad acquistare il regale di Natale direttamente dagli esercenti nei negozi presenti nelle nostre città. Non acquisteremo sui players internazionali tipo Amazon, ma vogliamo sostenere il commerciante che ovviamente sotto gli occhi di tutti ha sofferto in questo periodo. Quindi acquisti nei negozi di vicinato e non online? Sì, perfetto. Non un acquisto nei grandi player, perché è quello che dà una concorrenza sleale ai nostri negozianti. Loro li abbiamo visti impegnarsi, darsi da fare, vivere l'angoscia e li vogliamo sostenere per il coraggio che hanno dato. Stanno vivendo una concorrenza sleale e pertanto noi dobbiamo sostenerli. Ecco, lei è una dipendente di Confesercenti. Immagino che tutti i giorni sentirà un sacco di esercenti. Quali sono le loro richieste, le loro lamentele, le loro preoccupazioni? Ovviamente, ora come ora, la chiusura è una grandissima preoccupazione, è evidente a tutti. Poi, devono credere nel consumatore. Le loro richieste sono quelle in primis di lavorare, di avere la facoltà di esprimersi, di vendere i propri prodotti. È come una famiglia al negozio, dove loro aprono la loro famiglia con le loro vetrine, con il loro ingegno, con le loro capacità. Il chiudere, il non poter più esprimersi è ovviamente un blocco. I commercianti vogliono lavorare. Vogliono lavorare perché credono anche nel contatto con la clientela. Cioè, la clientela è fondamentale. Io sono cliente e lo vivo, questo rapporto tra commerciante e cliente. Loro vogliono lavorare. Loro vogliono lavorare.